Movimento di Matri, la palla per Giovinco che la sposta, tre uomini su di lui, cerca ancora Matri, fallo di mano di Costa, giudicato involontario dal direttore di gara perché Costa ha colpito il pallone con un piede e se l'è sbattuto sul braccio, De Ceglie deve inseguire Di Silve. Il cambio del secondo tempo è stato secondo me giusto da parte di Deglio Rossi.